Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The Legend is Back, The Legend is Back, Gormiti! Ciao bambini, bentornati al Gormiti Show! Giada, senti, volevo iniziare questa puntata con una cosa che mi piace tanto. No, non mangiare, lo sapevo che dicevi così, no, no, voglio fare una sfida Giada, con i collezionabili, ti do la possibilità di vincere. Ah, davvero? Beh, allora, facciamogli apparire. Vai! Oh, ti ho aiutato a fare la magia, hai visto? No, non mi hai aiutato per niente, l'ho fatta tutta da sola. Non è vero. Allora, mi raccomando, devo vincere, hai detto tu che vincerò. Ti sto raccomandando, va bene. Ok, ok, sono molto buono oggi. Allora, dimmi se questa mi fa vincere. Così se perde è colpa tua. Questa ti fa vincere, Giada. Seriamente? Sì. No. Sì? Dammi quella. No, no, quello che hai dato non torna più indietro, lo conosci. No, dammi quella, Johnny, dai. Tieni, ecco. Vediamo. No, ci sa che tu l'hai vato apposta. Guarda come si vince, Giada, guarda. Sei un bugiardo, comunque. Vuoi vedere a tutti chi hai trovato? Forte. Ah no, vai, vai, apri. Scusate, ma mi ando a ridere. Ok, mi sento molto forte, perché ho trovato, carissima Giada, ho trovato Orion. Io ho trovato Krios. Car Orion, non è che mi piace molto il numerino che è sotto il piedino, però... Sulla carica non me lo hai. Andiamo per gradi. Ho il numero sette. Numero sette. Anche il numero sette. È sotto il piede, che numero hai? Un numero basso, sono sincero. Potrei barare e dirti che ho un numero altissimo. Basso quanto? E basso più o meno così... Come fa ad essere un numero basso così? E basta. Non ho visto. Guarda! Gianni, smettila. Il numero uno hai. Perché? E io c'ho il numero due, quindi ho vinto. Ho vinto. Vabbè, io cosa ho detto all'inizio della puntata qualche secondo fa? Ti ho detto? Che mi avresti fatto vincere. Dai, che mi sento buona, che ti ho fatto vincere. Quindi sono tattura. Sì, però secondo me non erano le tue intenzioni farmi vincere. Però ho vinto lo stesso. Però non essere triste, che adesso sono super sorpresa. Ah! Le sorprese mi piacciono. Andiamo. Bella la sorpresa già da questo tavolo bianco. Bellissima. Un attimo di pazienza, Gianni. Grazie. Un attimo di pazienza e vedrai. Eh, vedrò ancora. Che bella sorpresa. Non vedo niente, vedo solo il tavolo bianco. Ah, sempre a lamentarti. Ecco la sorpresa! Giada, wow, ma è una novità super novità. Sì, è una super super novità. È una vermitica novità super... Sì, i gormiti stretch. Bellissimo. Ma Giada, facciamo così. Allora, intanto mostriamo quelli che ci sono. Sono troppo emozionato, davvero. Abbiamo Lord Soul, che si streccia. Io ho qui Lord Titano. E Lord Eglos. E c'è Lord Carion. La cosa bella di questi nuovi giocattoli è che sì... Allungano tantissimo! Si allungano, sono morbidosi, si stritolano. Allora, io ovviamente non posso non aprire Lord Carion. E io Lord Titano. Ok, allora. Sei pronto per la magia? No, 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 che magia, Giada. Siccome si streccia, ho voglia di aprirlo io. Ok, va bene, dai, per questa volta. Vabbiamo che belli che sono! Guarda! Wow! Guarda qui, guarda qui. Bellissimo! Adesso li faccio, guarda, eh. Guarda che forma faccio diventare Lord Carion. No, ma Pupino, sembra una schiacciatina. Guarda quanto altro può diventare, Johnny. Eccomi, sono Lord Carion! No, ma sono bellissimi. Sono anche morbidosi. Molto, molto. Sì, mi piacciono davvero tanto. Puoi anche strizzarli. Guarda, puoi fare un super pugno allungabile, guarda. È vero? Perché ti allungano il triplo della loro forma, no? Sì. Allora, ti colpisco anche io con il mio super pugno allungabile. E io con un calcio! Guardate quanto si allunga, bambini, guardate. Vai, prova a far così, aspetta. Vai. Tira di qua, ti tiri di là. Ho tutta la forza che ho, tutta la forza. Bellissimo. Mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Grazie Gianna per questo regalo. Ma figurati. Gianni, io starei qui a giocare tutto il giorno. Dai, rimaniamo tutto il giorno. Però c'è la bacheca gormitica che ci aspetta. Ma può aspettare ancora un minutino? Dai, andiamo su. Dopo continuiamo a giocare. Dai, dopo. Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Oggi ci è arrivata una bellissima foto di Francesco insieme alla sua serellina Maria Francesca. Guarda, ma siete dei fan super, 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 super gormitici. Ci hanno il panini magazine, la maglietta, gli astucci. Bella, quella maglietta piace tanto anche a me. Azzurra come la tua, Giada. È vero. Che belli, bravi. Grazie per averci mandato questa foto. Ci fa tanto piacere a noi, davvero tanto, tanto, tanto. Cosa devono fare i bambini però? Se vogliono mandarci i disegni, le foto, dediche. È facilissimo. Basta andare sul sito gormitishow.com e inviare tutto il materiale. Esatto, proprio seguite le procedure. Sì, anche per partecipare al Gormitishow. È vero. Vi aspettiamo. Ora Giada è finita la puntata. Dobbiamo salutare i nostri amici. Cosa devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social. Facebook, Instagram e il canale official di YouTube per restare sempre aggiornati. Giusto, Giada. Hai bisogno di iscriversi e mettere tantissimi. Like. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. Ciao. Ciao.